Guardate, una di quelle felpe da e-girl, no? Tipo, vedete, con le, con le, con le, cioè, non so se ho detto la parola giusta prima che qualcuno si offenda, eh? Ah, non roppetemi le balle, secondo me e-girl vuol dire ragazza virtuale, dico, beh, non lo so, cerchiamo, prima che abbiamo detto un'altra cappellata, va che qua, ultimamente, e-girl, cosa vuol dire? E-girl, no, era sbagliato anche qua, ma non è ma, non si può dire più niente, vuol dire ragazza elettronica, però è usato per indicare ragazzi e ragazze che fanno flirt con molti altri ragazzi, ma eh, sì, ma ho capito, ma qui non si può più dire una parola che ha cinque significati, volevo dire ragazza virtuale, perché io vedo, no, su TikTok, le TikToker, volevo dire, che hanno, no, le felpe che si infila il dito, come si dice? Cioè, ci sarà un termine, no? È giusto, no, ci ho indovinato, state dicendo che è giusto, oh, io ho quello stile, oh, oh, vedi, molto bello, no, emo, no, non credo che sia emo la felpa, è arancione, dovrebbe essere scura, no, vuol dire ragazza con stile, ah, ah, ebbè, allora è giusto, allora è giù, volevo dire quello io, emotional, ah, emotional, o comunque, è bello perché su internet ognuno può trovare il proprio significato di una parola, E, capito, no? E, creare una parola nuova, sì, 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 emo boy, no, non sono un emo boy, però, no, è bello, no, che i fili infili il dito, non l'ho capito bene, cioè, che senso ha? Cosa serve? Qualcuno mi spiega che cosa serve poter infilare il dito nelle, cioè, devo fare tipo, uh, uh, come, come si fa? Uh, 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 come si fa quella cosa? Uh, uh, sono così piccolina che sono caduta nel cesso, mi hanno dovuto prendere lo sturo lavandini, ne avete presente quei trend là, insomma, no? Ecco, ecco, li togliamo, comunque, perché non ho capito che cosa servono, quindi non li mettiamo più, questi, queste dita così, a tenere il palmo caldo, eh, effettivamente, non ci avevo pensato, grazie a Shelly WCF per questi cinque abbonamenti, ben gentile, ben gentile a Shelly, eh, ragazzi, eh, ragazzi, eh, cosa vi devo dire? Voi scrivete delle parole, ma io non so cosa vogliono dire, quindi, per paura, non le scrivo, non le, non le leggo, adesso lo cerco, allora, vediamo un po', perché poi qua, si sa mai, eh, cosa vuol dire questa parola qua? Eccolo là, lo sapevo, lo sapevo, e vuol dire, è una parolaccia, mannaggia, mannaggia, io, oh, io non vi devo leggere, perché voi siete pericolosi, scrivete le cose, poi dopo sono tutte cose porcacce, lo sapevo io, eh, lo sapevo, io lo sapevo, non vi devo fidare, non mi devo fidare, non mi devo fidare, i lion, eh, eh, cyber lion, bellissimo, caldo come dei guanti, eh, beh, allora son buone, la felpa delle gamer girl, eh, ma infatti io quello volevo dire, capito, no, che ce l'hanno tutte, molto bella, però, io non sono una gamer girl, però, sdoganiamo la sessualità dei vestiti, i vestiti sono, no, multi, multi sex, giusto, Se io oggi mi sveglio, mi voglio mettere, che ne so, boh, una gonna, magari ce l'ho e voi non lo sapete, che ne sapete, eh, potrebbe benissimo essere, eh, 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 per avere, d'estate voi, quando fa caldo, per rinfrescarsi, no, magari una bella gonna corta, eh, eh, ah, mi piace una persona e non so come dirgli,